Musica alle finestre per stare più vicini in questo periodo di distanza forzata. L'iniziativa ha avuto luogo in tutto il territorio italiano e anche a Belluno diversi musicisti locali giovedì sera hanno imbracciato il loro strumento suonando in libertà per una platea nascosta, invisibile, ma certamente presente ed attenta. Musica E la città di Feltre si prepara al bis previsto per domenica. Faccio un appello a tutti i feltrini domani alle ore 12 affacciatevi alla finestra, affacciatevi ai balconi. Chi ha una bandiera del palio sbandieri con quella, chi ha uno strumento del palio suoni pure, chi invece ha un contrariolo apponga l'insegna del proprio quartiere alla finestra. Facciamo sentire a questa città al ripario, facciamoci sentire l'un l'altro che non siamo soli e ce la faremo.